Stava facendo rientro a casa con un fucile senza avere l'autorizzazione al porto di armi da fuoco, quando è stato fermato dai carabinieri giunti ieri pomeriggio nella sua abitazione nel centro storico di San Cataldo per procedere al controllo amministrativo di armi. Nel corso del controllo i militari constatavano, oltre alla presenza di armi regolarmente detenute, anche la presenza di due coltelli di grosse dimensioni non indicati nella denuncia di possesso di armi. Per questo motivo il cinquantenne, GV le sue iniziali, è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi, poiché ha omesso di denunciare il possesso dei due coltelli e per aver portato fuori dalla propria abitazione un fucile da lui detenuto. A Caltanissetta invece ieri notte i carabinieri che stavano svolgendo un servizio di posto di blocco in Viale della Regione hanno fermato un giovane 26enne, PS le sue iniziali, che a bordo di una Fiat Panda procedeva a forte velocità. Il giovane presentava chiari sintomi di alterazione psicofisica dovuti all'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche, così come è stato accertato sia dalla prima prova dell'alcol test che ha registrato un tasso alcolemico nel sangue di 1,05 grammi sul litro, sia nel secondo test dove il tasso è risultato di 1,08 grammi sul litro, risultati entrambi più alti rispetto a quanto stabilito dalla legge e pari a 0,5 grammi sul litro. Dunque per il giovane conducente è scattata la denuncia a piede libero per guida sotto l'influenza alcolica, inoltre è stata ritirata la patente di guida. A Sera di Falco invece i carabinieri impegnati in un servizio di perlustrazione hanno notato in via Cavaliere Vittorio Veneto un ragazzo minorenne che alla loro vista gettava per terra uno spinello della lunghezza di 5 centimetri e del peso complessivo di 0,5 grammi. Il giovane vistosi ormai scoperto dichiarava che si trattava di hashish e che ne era assuntore. Il minore dopo le formalità di rito è stato segnalato alla locale prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.